Buonasera a tutte e buonasera a tutti eh benvenuti alla presentazione del rapporto illuminare le periferie edizione duemila e venti in questo incontro insieme questa sera ci concentreremo soprattutto eh su come vengono eh raccontate o non vengono raccontate le periferie fuori dall'Italia quindi all'estero. Io ringrazio subito chi ha reso possibile negli anni questo rapporto quindi il COSPE che lo ha promosso insieme allo SIGRAI alla Federazione Nazionale della Stampa all'Osservatorio di Pavia che lo ha curato all'Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo e quest'anno anche all'impresa sociale con i eh bambini e li ringrazio soprattutto perché eh è uno sforzo di cui anche noi giornalisti abbiamo bisogno io sono Azzurra Meringolo eh lavoro alla redazione esteri del giornale Radio Rai e diciamo che anche per noi spesso è difficile cercare di fare fare entrare nel racconto mediatico queste eh queste tante storie con le quali entriamo in contatto quotidianamente da quelle che vengono ritenute le periferie del mondo che però poi svelano tanto anche su quello che succede eh anche eh nelle in Europa nel mondo più diciamo eurocentrico e anche all'interno del nostro paese prima di eh raccontarvi eh nello specifico quali sono i risultati di questo rapporto io darei subito la parola a Lucia Goracci corrispondente Rai da Istanbul già peraltro eh inviata in diverse periferie penso alla Siria penso alla Libia solo alcuni dei contesti nei quali ha lavorato Lucia buonasera mentre si connette eh le chiederei essenzialmente di aiutarci a capire che cosa possiamo fare no? Quando che cosa fare con tutte queste storie che eh recepiamo che esistono da dalle periferie ma che non riusciamo essenzialmente a fare entrare nel newsmaking anche perché quali sono i limiti e poi anche una tua esperienza personale visto che eh molto spesso anche quest'anno quando hai dovuto coprire l'esplosione di Beirut ti sei trovata a dover raccontare improvvisamente una di quelle tra virgolette periferie del mondo che non veniva raccontata da anni che improvvisamente hai dovuto riassumere per raccontare la la quotidianità di oggi quindi ti chiederei se ci aiuti a capire appunto come tenere queste periferie come comunque tenere alta l'attenzione su queste parti del mondo. Eh buonasera di nuovo a tutti eh buonasera d'Azzurra ehm sì sicuramente eh beh c'è eh c'è una difficoltà c'è una complessità in più che è legata al momento eccezionale che stiamo vivendo eh quindi non c'è soltanto da fare i conti con l'andamento carsico no da fiume carsico del eh racconto eh di un certo estero eh facevi menzione del del Libano ma avrebbe anche da pensare altre aree eh che a volte rompono poi scompaiono dall'Afghanistan appunto alla Libia eh ma c'è anche eh proprio ehm da relazionarsi con l'unità di questo di questo anno di questo momento il racconto delle emergenze il racconto delle crisi il racconto dell'altrui sofferenza ehm quest'anno viene eh più difficile eh io sono in Rai da venticinque anni e agli esteri da venti più difficile di sempre perché comunque appunto questo momento nuovo ehm con il coronavirus per noi per noi eh che lo che lo stiamo vivendo eh ci sono diversi piani di difficoltà eh il primo proprio eh andiamo sul pratico eh l'impaginazione delle notizie in un telegiornale o in un giornale radio eh quando tu sei eh inevitabilmente concentrato eh su quello che sta accadendo sul dolore che sta accadendo nel tuo paese ehm abbiamo spesso evocato eh termini che sono nel racconto eh dell'inviato di guerra per raccontare il coronavirus in Italia ehm abbiamo visto eh camion militari portare via morti in Italia abbiamo parlato di una chirurgia di guerra che doveva scegliere tra chi far vivere e tra chi far morire ecco eh quello che succede eh nel resto del mondo in qualche modo trova inevitabilmente meno spazio cioè vi faccio un esempio molto pratico io sto lavorando eh per TV7 del Tg1 eh sulle difficoltà di tenere aperte nei campi profughi turchi le scuole per i bambini siriani eh e e però da noi c'è la difficoltà eh dell'istruzione in tempi di didattica a distanza e allora ehm sia dal punto di vista dell'impaginazione del giornale ma anche rovesciamo la prospettiva dal punto di vista dell'opinione pubblica italiana che deve fare i conti con i propri figli e e con il futuro eh prossimo diciamo così della loro istruzione che funziona o non funziona in tempi di dad hanno evidentemente una minore empatia una minore eh disponibilità una minore capacità di accettare il tuo racconto da crisi che nel frattempo si sono cronicizzate e quindi assomigliano sempre eh a loro stesse eh per cui finisce che noi veniamo appunto noi Medio Oriente eh necessariamente eh a occupare la parte finale dei notiziari Tg e Gr con magari anche un compito improbabile di alleggerimento eh eh no perché è normale che sia così eh questo lo dico eh pur nella consapevolezza eh di quello che è il compito del servizio pubblico eh un compito che il servizio pubblico secondo me assolve anche eh con grande dignità io non posso non posso dimenticare eh che per esempio nel racconto dell'ultima fase eh della guerra al califato eh quindi la caduta eh dell'ultima ridotta dell'Isis a Bagus eh noi della RAI eravamo gli unici l'unica eh presenza eh di giornalismo italiano eh che raccontò quell'evento che era l'epilogo ma noi c'eravamo eh così come eh una delle ultime trasferte eh oltre a Beirut eh che mi sono trovata a fare prima del lockdown di marzo era Edirne quindi lungo la frontiera eh di un possibile nuovo esodo eh dei profughi eh siriani ma anche afghani, iraniani, iracheni eh presenti in Turchia verso la Grecia. Questo per dire appunto ehm che non c'è nessun intento eh polemico, c'è una eh oggettività di fatti nuovi. Come si risolve tutto questo? Eh occupando tutti gli spazi che si che si aprono oggi per esempio la giornata ehm internazionale eh dedicata ai diritti dell'uomo e quindi si aprono delle finestre anche per il racconto delle crisi eh delle crisi dimenticate eh con un costante eh gioco di sponda con le varie eh line di redazione nelle diverse testate che come noi sono chiaramente sensibili eh a un a un a un racconto dall'estero con uno sforzo sistematico e e quotidiano eh oltre che con la possibilità di occupare magari non nei notiziari ma i vari programmi di approfondimento citato prima TV7, TG Tremondo o le news quindi il giornale radio e Rai News ventiquattro. Eh ehm non dimenticando tuttavia che sarebbe un errore molto grave eh eh scordarci eh di eh quello che è dei profughi siriani in Turchia eh quello che è di Lesbo dove sono confinati ai alla periferia dell'Europa quelli che sono riusciti a saltare di là o della o della Libia o dell'eterno conflitto siriano o dei problemi eh dell'Iran sotto perché poi queste vicende in qualche modo torneranno eh a esploderci in faccia eh fu un errore forse che fu fatto nella seconda metà degli anni duemila quando tutti presi dalla crisi economica greca, dalla crisi economica dell'Europa ehm dimenticando che c'erano stati falliti in Iraq, in Siria e dopodiché eh arrivò l'esodo nel duemilaquindici lungo la rotta dei Balcani, dopodiché arrivò l'Isis a scuotere la nostra sicurezza fin dentro eh le capitali eh del dell'Europa. Quindi insomma eh il momento è eccezionale, il momento è eccezionale e e durerà secondo me ancora per un po' ehm non dobbiamo mollare la presa perché appunto eh le crisi dimenticate poi bussano di nuovo alla nostra porta e noi finiamo per non avere più eh se le abbandoniamo troppo a lungo una capacità di lettura, di analisi e e e anche di racconto, di racconto eh delle stesse. Grazie, grazie Lucia anche per hm diciamo averci allertato su quello che io chiamo giornalismo a intermittenza, no? I rischi di questo giornalismo che accende le telecamere per qualche giorno su una crisi, poi se la dimentica per mese e poi improvvisamente questa crisi che nel frattempo ha avuto una sua evoluzione, ha cambiato le dinamiche, ritorna nella quotidianità anche delle nostre vite, nelle nostre case, no? Durante le cene degli milioni di italiani che però faticano a capire realmente che cosa succede. Se posso dire un'ultima cosa mh proprio in questo approfondimento che sto facendo intervistato eh Regina De Dominicis mh rappresentante di Unicef in Turchia italiana peraltro e e le ho detto perché appunto parlare ancora eh dell'istruzione dei bambini siriani eh in un momento eccezionale come questo e lei mi ha risposto molto eh candidamente perché ci vivono intorno cioè eh è chiaro che queste crisi non possiamo possiamo dimenticarle ma non le possiamo far scopparire insomma con con la bacchetta magica ecco. Certo chiaramente sono poi mh tematiche che ci che ci riguardano no? Questo nel nel rapporto eh emerge nella sua interezza quanto queste periferie eh vere o presunte poi sono in realtà spesso il cortile di casa quindi forse un racconto più ampio e come tu dicevi anche quanto è importante il lavoro sinergico trasversale no? Tenere insieme come anche l'evento di oggi vuole fare la cooperazione, la politica estera, le ONG, il mondo dell'informazione poi riesce magari a fare breccia su un tipo di eh racconto. Grazie Lucia e e buon lavoro. Io a questo punto chiederei a Paola Beretta eh Baretta e a Giuseppe Milazzo di ehm un attimo illustrarci i risultati del rapporto. Lucia Goracci diceva che viviamo in un momento in un momento eccezionale e si riferisce ovviamente alla pandemia che ha dominato il racconto mediatico ehm il racconto mediatico di questa stagione. Io aggiungo che anche negli esteri l'ha dominato riducendolo molto spesso al al quadrante europeo comunque eurocentrico quindi Europa e Stati Uniti quindi chiederei a voi di riassumere per tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento seguendo questo evento quali sono i risultati ai quali voi siete arrivati cioè come eh le periferie del mondo sono state raccontate quest'anno dai principali eh Tg del paese. Eh grazie azzurra raccolgo la le suggestioni di Lucia Goracci e illustro sinteticamente quali sono i principali risultati rispetto ai telegiornali che come abbiamo avuto modo di sottolineare nelle presentazioni abbiamo scelto come ehm sguardo per perché informano a una quota significativa dell'opinione pubblica italiana che quindi contribuiscono a dare un'idea dei contesti soprattutto dei contesti più lontani eh il il covid a diciannove ha occupato l'agenda dei telegiornali eh inevitabilmente anche collegandolo ovviamente agli esteri eh quello che abbiamo rilevato è un un'attenzione più ad alcuni contesti per cui nel nel rapporto abbiamo parlato di uno sguardo eurocentrico del covid perché grande spazio hanno avuto i contesti di prossimità quindi principalmente gli altri paesi europei meno attenzione hanno avuto altri contesti eh come ha sottolineato giustamente Lucia Goracci che poi un domani potrebbero entrare direttamente eh a contatto con noi sono contesti peraltro con cui l'Italia continua ad avere importante connessioni commerciali eh economiche quindi in qualche modo l'effetto globalizzante del covid poi ha una rappresentazione mediatica degli esteri che non è altrettanto globale e tra i dati che ci hanno colpito di più e adesso sinteticamente illustro eh i principali risultati c'è proprio l'assenza di alcuni paesi che sono stati colpiti duramente dal covid in in Sud America per esempio alcuni paesi come l'Argentina, il Brasile, l'Equador che voi pensate sono presenti in una decina di notizie dall'inizio della dall'inizio della pandemia fino alla sua eh alla sua massima diffusione. Ehm tra i principali risultati vi sono eh sostanzialmente due eh quelli che abbiamo definito come le principali e cerco di ehm condividere immagino che riusciate a vedere la la presentazione bene eh c'è un una linea di tendenza che come vedete assegna comunque agli esteri anche nel eh sia nel primo che nel semestre duemilaventi un'attenzione agli esteri nel nel loro complesso ci sono la Brexit il ci sono e l'uscita quindi del Regno Unito dal dall'Unione Europea c'è la politica americana c'è tutta la fase preparatoria alle alle elezioni americane e poi una parte di l'inizio della campagna elettorale ci sono poi eh come anticipavo cioè i temi del covid eh che entrano nell'agenda degli esteri che sono seguiti dalla politica dalle cosiddette soft news e poi a seguire dalla cronaca dei conflitti ehm l'elemento interessante è che immaginando un'agenda in cui degli esteri in cui non consideriamo il covid restano alcuni temi restano del tutto marginali eh appunto Lucia Goracci diceva alcuni temi anche ehm in parte per il covid ma in parte per una tendenza che abbiamo visto emergere già nell'anno scorso sono progressivamente lasciati ai margini in primis le guerre e i conflitti guerre e conflitti la Siria l'Afghanistan altro dato che ci ha colpito sono presenti in diciassette e tredici notizie cioè sono le cosiddette crisi appunto a dura intermittenza che hanno avuto una visibilità ciclica e che sono progressivamente scomparse nel corso degli anni anche a seguito di una diminuzione eh nella percezione di interesse della eh della vicinanza delle crisi vi ricordate nella fase di di eh massima di mh di apice delle crisi eh gli arrivi eh gli attraversamenti e la connessione con il tema dell'immigrazione aveva fatto balzare nell'attenzione di tutti progressivamente finita quell'emergenza sono scomparsi gli stessi contesti e come vedete negli andamenti eh a parte appunto la costanza della politica le guerre e i conflitti il terrorismo in ragione della eh dell'assenza eh nel negli ultimi tempi di mh attentati terroristici di di prossimità cioè gli attentati terroristi di di maettrice già di sta si sono verificati in contesti appunto di nuovo sentiti come lontani e quindi non coperti nello stesso modo rispetto ai contesti che sono a noi più vicini e il dato su tutti che è la presenza degli invisibili costante cioè del tutto marginale rispetto all'agenda e quindi i contesti eh che possono essere contesti geografici umani cioè contesti geografici di paesi il Malawi per esempio che non è presente in alcuna notizia o di situazioni di popolazioni eh che vivono la siccità per esempio a seguito del cambiamento climatico che vivono nella che vivono le conseguenze del covid nelle baraccopoli o o appunto le cosiddette periferie ecco quelle sono eh come nel nel loro essere invisibili sono strutturalmente presenti nell'agenda eh quello che noi sottolineiamo tutti gli anni è che la qualità dei reportage come ahm come ha detto poc'anzi Lucia ci ci sono gli esperti ci sono le voci dei protagonisti ci sono c'è la qualità del reportage ma appunto eh con con una questione sulla eh sulla quantità cioè sul fatto che eh rimangano appunto più più ai margini e come vedete nella distribuzione in una mappa ehm una mappa ideale eh in una mappa la mappa del mondo eh non ideale ma nella mappa che viene rappresentata ci sono c'è l'Europa c'è il Nord America e poi ci sono Centro e Sud America l'Oceania che è una novità eh di quest'ultima edizione che è stata visibile in ragione vi ricordate degli incendi in Australia che hanno quindi occupato l'agenda per la gravità evidentemente e con la connessione ambientale il Medio Oriente l'Asia c'è un un aspetto che unisce alcune trattazioni che in qualche modo fa da filo conduttore o ovviamente oltre all'emergenza sanitaria le sue conseguenze che è quello delle proteste eh perché le proteste negli Stati Uniti eh all'indomani dell'uccisione di George Floyd poi hanno dato vita in qualche modo a un'attenzione mediatica che si è spostata anche su altri temi ehm sulle rivendicazioni di diritti su eh da Hong Kong alla Thailandia ehm che hanno appunto ha avuto come tratto in comune però la presenza di eh individui, le collettività che in qualche modo protestano per ottenere appunto un miglioramento delle condizioni e per ottenere dei diritti. Io mi eh fermerei poi lascerei al al collega Giuseppe Milazzo che ha seguito la la parte delle pagine social lasciando poi la lettura di il delle di tutte le parti che interessano. Grazie. Eh buonasera buonasera a tutti. Grazie Paola. Io vi presento rapidamente alcuni risultati della dell'approfondimento che abbiamo fatto sui sui social media. vedo se riesco a condividere lo schermo. Ecco. Eh la l'idea di sviluppare questa parte nasce proprio dalla eh dalla curiosità di vedere se eh sui social media si sviluppa una modalità di racconto degli esteri similare o differente rispetto a quella delle proposte dei media tradizionali. Allora due note sul sul metodo. Abbiamo ehm preso in considerazione la visibilità di ventidue paesi esteri eh nel mondo social di Facebook. Il periodo di analisi sono quattordici mesi da giugno duemila diciannove a luglio duemila e venti. e i dati sono stati estrapolati eh con Cloud Tangle eh per un totale di centotrentun mila e settecento post che poi sono stati eh analizzati. eh eh ecco quali sono i paesi che abbiamo considerato? Abbiamo preso quelli eh definiti eh prioritari dalla cooperazione eh italiana. Li vedete nella nella slide ci sono paesi di diverse aree aree geografiche. Allora quali quali erano le domande di ricerca? Sostanzialmente tre. La prima quali sono i paesi maggiormente visibili eh nello spazio pubblico di Facebook? Eh la seconda quali paesi sono più eh popolari eh nell'accezione pur limitata eh di numero di eh interazioni generate dai post e eh la terza quali sono i contesti eh tematici che si eh legano alla alla citazione dei dei paesi. Venendo al primo quesito quali sono eh i paesi? Eh vedete ci sono Egitto, Albania, Cuba, sono i primi paesi come quantità di post eh pubblicati. Eh ecco su questo c'è già magari un aspetto interessante sulla relazione che ci può essere no? Fra l'agenda eh proposta hm spontaneamente diciamo nel mondo pubblico eh di Facebook è quella che può essere invece l'agenda eh dei media eh tradizionali. Allora l'Egitto è di gran lunga il paese che raccoglie più post seguito da Albania eh Cuba, Kenya e Tunisia eh tutto con un numero di post superiori ai dieci mila. Venendo al secondo quesito quali sono i paesi che invece generano più interazioni? Eh vediamo innanzitutto che i ventidue paesi analizzati generano parecchie interazioni oltre 40 milioni nel periodo considerato sebbene la media di interazioni per post risulti abbastanza contenuta no? Sono trecento, poco più di trecento in media. Eh dunque l'Albania pur con meno post rispetto all'Egitto è il paese che invece genera più a interazioni nel periodo esaminato e sono circa sei milioni. Poi vengono Tunisia e Kenya che anche 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 esse generano un numero di interazioni medie eh per post superiori a Egitto e Cuba nonostante siano eh diciamo inferiori come quantità complessiva di post. Ecco guardando questa differenza fra appunto interazione media e interazione e la somma totale delle interazioni ehm ci sono alcuni dati interessanti poi magari ve li potete vedere meglio nel rapporto. Io vi segnalo ad esempio la Somalia che pur avendo un numero complessivo di interazioni e di post non non eh grandissimo come quantità invece di interazioni medie per post è tra i paesi più ehm più alti. Allora quali sono i diciamo i temi, le questioni che generano più interazioni? Eh nel periodo esaminato abbiamo notato, notiamo quattro, sostanzialmente quattro picchi, il primo che risale a novembre del duemiladiciannove eh riguarda la zona dei Balcani ed è riferibile sostanzialmente al terremoto in Albania e alla partita di calcio Bosnia Italia per Euro duemilaventi. Ehm il secondo picco invece che è a marzo duemilaventi riguarda invece la zona dell'America Latina eh e Caraivi eh e qui i temi che concorrono maggiormente a questo picco sono l'attenzione che viene rivolta a Cuba eh a causa della dell'aiuto dei medici cubani in Italia eh per la gestione dell'emergenza covid e poi una polemica che forse ricorderete sugli aiuti economici alla Bolivia. Eh il terzo picco invece è eh maggio ed è sostanzialmente eh riguarda l'Africa subsahariana ed è riconducibile in prevalenza alla liberazione di Silvia Romano e infatti il Kenya è il paese più eh più eh rappresentativo di questo di questo mese. Eh l'ultimo picco riguarda invece un'attenzione alla Tunisia legata sostanzialmente alla alle migrazioni. Allora chi genera più interazioni su Facebook? Ecco eh naturalmente ci sono mh diciamo soggetti eh noti diciamo importanti del del mondo politico o del giornalismo cosiddetti influencer ma ci sono anche molte pagine di eh di testate giornalistiche tra le prime cinque eh soggetti diciamo che generano più interazioni eh che tra l'altro totalizzano una quantità significativa di interazioni nel nel periodo ci sono due soggetti come vedete e tre eh testate giornalistiche. Questo è un aspetto interessante perché eh mostra anche la compenetrazione cioè la contaminazione tra appunto ehm social media in questo caso Facebook e la le testate giornalistiche. Allora la differenza principale tra i cosiddetti influencer e le queste testate giornalistiche sta sia nella capacità di generare interazioni perché ovviamente la media di interazioni eh se voi vedete ad esempio del del primo sono del leader della Lega Matteo Salvini sono 40 mila oltre 40 mila eh rispetto ai 3 mila di Repubblica. Eh queste sono interazioni medie. Eh però l'altro aspetto interessante è che eh mentre i questi così grandi influencer sostanzialmente citano pochi paesi in contesti tematici relativamente eh ridotti invece le le tutte le pagine eh dei delle testate giornalistiche che dedicano almeno un post a a a tutti i 22 paesi che abbiamo analizzato. Ecco il terzo tema eh la terza domanda di di ricerca era quella su quali sono i contesti tematici eh con una attraverso un'analisi lessicale di tutto il corpus eh dei centotrentunmila post siamo riusciti a risalire alle alle tematiche prevalenti per ogni paese. Vi rimando al rapporto per le singole ehm diciamo le per i singoli temi riferibili ai paesi. Vi mostro invece questa mappa fattoriale che è un po' una sintesi dei risultati principali. Eh qui vedete ci sono emersi sostanzialmente tre cluster semantici prevalenti. Il primo è eh stato denominato emergenze planetarie che eh prevalentemente vedete questa questo quadrante eh determinata da parole che riportano alla l'emergenza covid ma anche ad altre emergenze umanitarie eh eh catastrofi naturali eh cambiamento climatico eccetera. I paesi che si sono che sono più ehm rappresentativi di questo nucleo semantico cioè che hanno una sovra rappresentazione in questo cluster rispetto agli altri due cluster una sovra rappresentazione eh statisticamente significativa quindi comunque il quadro più elevato. sono Albania, Bozambico, Etiopia, Niger, Burkina Faso, eh Sud Sudan e Sud Sudan, Myanmar e Salvador e Giordania. Il secondo cluster invece che è quello in alto a sinistra eh definito tensioni internazionali è sostanzialmente ehm dominato dalle questioni di guerre e conflitti eh ma anche eh questioni politiche eh diplomatiche, politica estera in senso più diciamo così eh 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 classico eh eh classico e conflitti e in questo caso i paesi che sono più collegati sono Tunisia, Afghanistan perché c'è anche immigrazione Tunisia, Libano, Palestina, Bolivia, Somalia e Pakistan. Ecco, vorrei dirvi anche quali sono i soggetti che sono maggiormente eh produttori di contenuti. ecco in questo caso troviamo eh troviamo eh troviamo eh associazioni anche culturali e politiche mentre nel caso precedente c'era una prevalenza di associazioni e organizzazioni umanitarie che partecipavano alla alla creazione di contenuti. il terzo cluster che è definito identità culturali è dominato da in parte dalla dalla questione religiosa cioè ci sono tanti riferimenti alla alla religione però anche a elementi identitari culturali e di turismo. sono in questo caso i paesi eh non so se se riuscite a vederli ma sono sono quelli sono Egitto, Kenya, Cuba, Senegal e Bosnia e in questo caso tra le prime fonti significative di quest'area eh semantica spiccono pagine confessionali e di promozione eh culturale. ecco in estrema sintesi dunque eh come abbiamo visto lo spazio pubblico eh di Facebook in Italia offre una quantità enorme di informazioni sul mondo ed evidenzia una relazione di contaminazione tra social media e media tradizionali con questi ultimi che dimostrano di avere ancora un ruolo primario sia per l'ampia per l'angolatura di sguardo sia per il numero di interazioni eh che riescono a produrre ehm e eh e poi altri soggetti invece diversi dai media tradizionali come associazioni, organizzazioni, individui che sono capaci di generare sostanzialmente informazioni distintive cioè differenti rispetto a quelle a quelle date dai dai media tradizionali. ora in una fase di indubbia trasformazione eh dei media nell'era digitale dove si confrontano come sappiamo insomma posizioni diverse no da quelle più apocalittiche che parlano della fine del giornalismo così come l'abbiamo conosciuto finora a quelle magari più integrate che vedono la necessità di una trasformazione ma anche la straordinaria opportunità no di eh dell'informazione che eh che dà il web ecco io vorrei chiudere con una riflessione personale molto semplice eh diciamo eh diciamo al limite della banalità ma della sottocombolo stesso eh di fronte alla sovrabbondanza di eh contenuti eh web potenzialmente infiniti no ehm la domanda di raccolta e organizzazione delle notizie è ancora più necessaria e urgente che in passato e infatti laddove non arriva l'uomo a tentare di mettere ordine a questa sovrabbondanza di sovrabbondanza di offerta vi sono gli algoritmi gli algoritmi gli algoritmi di intelligenza artificiale dunque questa domanda è viva cioè esiste ed è viva allora il bisogno di selezionatori di notizie possibilmente eh professionali riguarda certamente no di importanti eh come la verifica delle fonti no eh per citarne una ma dal punto di vista dell'utenza questa domanda di selezionatori e organizzatori no di contenuti no di contenuti esiste anche semplicemente perché non abbiamo tempo eh il nostro tempo è limitato oltre il tempo di lavoro eh cura nutrimento sonno il nostro tempo si divide tra molteplici interessi culturali no eh o di intrattenimento sport, cinema, cinema, letteratura, musica, relazioni sociali. non abbiamo tempo di seguire cercare e leggere tutte le notizie sul mondo di qui la ricerca di tutti di avere sintesi affidabili che siano nei formati classici detti dei giornali del giornali del giornale o dei newsfeed eh del web o dei social network qui però il problema dell'algoritmo eh indipendentemente dall'annosa questione eh diciamo della della trasparenza è che io personalmente eh non vorrei ricevere solo le informazioni che mi interessano definite sulla base dei miei interessi e le mie abitudini che siano online oppure offline. vorrei invece uno sguardo sul mondo che vada oltre i miei interessi codificati oggi. Vorrei cioè un nutrimento per la mia curiosità. E qui si torna alla giornalismo. Grazie. Grazie per l'ascolto. Grazie mille. Grazie mille Giuseppe. Grazie mille Paola. E grazie soprattutto per questa tua conclusione e per aver anche condiviso con noi la diciamo la la tua sete, la tua fame di poter andare anche oltre quella riduco di quella che potrebbe rischia di essere una bolla no? anche una cassa di risonanza cioè comunque eh degli ambienti dove si replicano eh dinamiche anche si passano notizie sempre molto vicine a noi e ai nostri interessi che eh ci chiudono ehm delle porte piuttosto che aprirci degli orizzonti. penso che questo effettivamente sia un un rischio che c'è in questa in questa sfera diciamo mediatica ehm ed è molto interessante il discorso lo dico da giornalista il discorso e l'analisi che avete fatto sui social ehm un po' per il ruolo delle società civile no? anche il ruolo che la società civile eh riesce ad avere in questa area più facilmente penetrabile di altre per vari motivi e per varie dinamiche il ruolo delle diascore sul quale poi eh torneremo e anche però la questione di come poi poter maneggiare realmente tutto questo materiale che non che spesso non è giornalismo no? quindi spesso non c'è un metodo eh giornalistico come distinguere il giornalismo dalla propaganda eccetera 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 certamente ehm un aspetto molto interessante mi chiedevo se si può dedurre ma lascio il dubbio aperto per questioni di tempo che eh dal web ci viene l'indicazione che comunque c'è interesse per le questioni di esseri molto spesso noi giornalisti ci sentiamo dire non ci interessa questo no? Non interessa al pubblico in realtà anche il pubblico sta cambiando anche gli utenti stanno cambiando e forse se anche il prodotto giornalistico cambiasse poi si avrebbero più eh più utenti. Ehm darei adesso la parola a Valerio eh Cataldi. Valerio eh tu sei un inviato del Tg2 già presidente dell'Associazione ehm Carta di Roma e per anni hai cercato di raccontare quella che posso definire anche da quanto ha detto Paola la periferia delle periferie no? L'America Latina nonostante la pandemia che ha colpito tantissimo anche questa parte del mondo solo dieci notizie eh nel corso dell'anno. Oltre alla pandemia poi tantissime altre crisi io penso al Perù penso al Venezuela che hm non riescono a trovare spazio io ho dovuto fare un pezzo sul Perù mi sono chiesta ma quando è che l'ultima volta un ascoltatore del giornale radio ha sentito parlare di Perù? Insomma questo vuole anche dire per noi come li raccontiamo no? Questi paesi del quale non si capisce non si conosce molto. Eh ovviamente in pochi minuti non ti posso chiedere di colmare questa enorme lacuna del nostro sistema mediatico eh però ti chiederei di poterci raccontare eh visto che sei anche tornato recentemente dalla regione dove hai fatto diversi viaggi che cosa bolle eh in pentola in questa parte del mondo e perché interessa anche a noi. Guarda lasciami dire innanzitutto che io sono a Rai News da poco tempo ma sono a Rai News e il Tg2 l'ho lasciato tempo fa eh e questa è una precisazione necessaria eh dopodiché eh una considerazione credo che vada fatta io ricordo un direttore di di telegiornale tra i tanti che che sono passati eh eh quando eh durante questi anche io venticinque anni dirai che disse proprio con grande chiarezza in una riunione di redazione che gli esteri non degli esteri non frega niente a nessuno insomma questo è un po' l'approccio eh che non è generalizzato non è non è comune a tutti evidentemente però c'è come dire un 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 freno a a all'all'informazione che riguarda gli esteri che è molto che è molto netto è molto tirato è molto e fa della nostra informazione italiana un'informazione molto provinciale eh la Rai ha un grande ha una grande pecca eh rispetto al Sud America quando ha scelto di di tagliare gli uffici di corrispondenza ha scelto di tagliare l'ufficio di corrispondenza che che c'era in Sud America e adesso oggi non c'è più un corrispondente in Sud America e questo credo che sia un un grandissimo eh difetto eh di comunicazione ed è un difetto che che è percepito con grande nettezza tra chi vive in Sud America no? Tra i sudamericani eh in realtà non riguarda soltanto noi non riguarda soltanto l'Italia ma se tu vai lì e parli di America io mi ricordo la prima volta sono sono eh ho andato e ho parlato con loro parlavo di America parlando riferendomi agli Stati Uniti e loro si arrabbiavano moltissimo per questo perché l'America non sono gli Stati Uniti dicevano con grande con grande nettezza eh per me era un po' una novità un modo modo eh eh diverso di approcciare a quel a quel quel continente però effettivamente c'è una condizione culturale che che eh che eh costringe tutti noi no? A vedere a vedere quei luoghi e a chiamarli in un certo modo piuttosto che in un altro e e in questo modo a contribuire ad isolarli e e a dimenticarli no? in qualche modo io sono stato eh negli ultimi tre anni eh con grandissima frequenza eh in Sud America sono stato soprattutto per seguire eh vicende legate al narcotraffico che è eh vuol dire forse forse uno dei temi di cui si parla più frequentemente no? Di di quella di quella parte eh di quella parte di mondo perché poi è il luogo dove eh si coltivano e si produce la la eh una grandissima quantità di cocaina e di oppio e e oggi anche oggi anche metanfetamine ehm eh io sono andato a cercare però di guardare quella eh quel tema quella quell'argomento con una prospettiva eh diversa che non fosse quella eh dei telegiornali che raccontano quella parte del mondo solo quando c'è un'operazione di polizia quindi ci sono degli arresti allora si raccontano i legami eh che si che si possono avere con 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 i trafficanti eh del Sud America io ho cercato di raccontare quel 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 eh questo fenomeno che pure eh è un fenomeno importante per tutto il pianeta soprattutto probabilmente per l'Italia che ha eh le sue principali eh come dire mafie che si occupano di 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 questo tema con quasi il monopolio del traffico eh dal Sud America verso l'Europa però è un fenomeno che che produce eh eh un giro d'affari di quattrocentocinquanta miliardi di dollari l'anno io non so se se è il più grande la più grande impresa del pianeta però certamente è una delle più grandi eh eppure è un fatto che coinvolge moltissime persone noi abbiamo cercato di raccontare le persone che subiscono in qualche modo eh quel fenomeno abbiamo cercato di di raccontare le persone che sono ai margini di quel fenomeno la peria la periferia della periferia se se mi ha consentito eh dirlo in questi termini eh eravamo in eh Sud America quando eh quando è iniziata la la pandemia in realtà in Italia già si contavano eh centinaia di morti al giorno e in in Messico dove eravamo in quel momento eh non si percepiva se non eh perché non trovavi più le 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 mascherine nei negozi però non si percepiva il reale pericolo di 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 quel di quel di cosa stava per accadere anche da quelle parti probabilmente poi con effetti eh che a causa anche della mancanza di racconto che c'è di quel territorio eh sono stati nascosti sicuramente molto più devastanti che in altre parti del pianeta e però non abbiamo la percezione perché non c'è un racconto continuativo che ci consenta di di capire e ci consenta di di fare un'analisi chiara di di ciò che è successo e neanche lì in realtà c'è questa questa percezione vi dicevo io volevo farvi vedere alcuni alcuni filmati per capire un po' eh quello che eh che abbiamo trovato in quel in quel momento questo però è un filmato amatoriale che racconta un po' secondo me è l'esemplificazione di di del del tipo di eh di rapporto che il narcotraffico ha con il potere eh e che ha un rapporto imprescindibile questo signore con eh la camicia che va a stringere la mano a questa signora il presidente eh il presidente messicano la signora è la mamma del ciapo eh uno dei più grossi eh narcotrafficanti del pianeta uno dei personaggi più pericolosi del pianeta lui in piena pandemia va senza mascherina senza curarsi della distanza sociale le stringe la mano e lo fa per dare evidentemente un messaggio politico no? Al cartello di Sinaloa lo fa perché ha bisogno eh di 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 dimostrare eh una certa disponibilità verso quel verso quel mondo lui poi si è giustificato dicendo che in realtà lo ha fatto perché la signora gli chiedeva la possibilità di essere aiutata ad andare a trovare il figlio insomma ha cercato di trovare una giustificazione però è evidente eh che che c'era una ragione molto più politica perché la gestione della eh pandemia e della eh della vita eh in Sud America è centrata su quel su quel eh su quell'equilibrio tra potere e criminalità che spesso si si confonde queste sono altre immagini sono immagini durante la pandemia questo è uno dei cartelli di narcotrafficanti proprio il cartello di Sinaloa che va a portare dei degli aiuti alla popolazione e gli porta dei cesti pieni di cose da mangiare con tanto di logo sulla 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 busta la gente ringrazia questa è un po' la dimostrazione di quanto di quanto la la gestione del territorio la gestione del potere eh sia condizionata da 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 questi meccanismi eh sappiamo che in Sud America c'è una quantità eh di di corruzione che è una delle delle più alte del pianeta e e e dove non arriva al potere arriva arrivano i criminali eh i criminali arrivano eh anche a ehm a gestire la 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 il l'ordine pubblico arrivano l'ordine pubblico arrivano a gestire l'ordine pubblico attraverso eh anche in periodo di pandemia hanno fatto eh come dire hanno hanno eh ci sono loro quali fossero eh delle regole per eh di comportamento per cui quando veniva eh stabilito che ci fosse ci dovesse essere la quarantena e la punizione per chi la violava era questa mazza con scritto covid-19 con i quali con i quali venivano punite le persone e che violavano la quarantena e e i i video circolavano sui social a dimostrazione che eh che che c'è qualcuno che 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 comanda da quelle parti e si e si capisce con grande precisione chi è che comanda. Noi abbiamo eh fatto quel quel percorso eh cercando di percorrere un po' le strade attraverso le storie delle persone le storie minori delle persone e abbiamo 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 incontrato un un ragazzo che si chiama un ragazzo che vive al confine tra eh Colombia e Venezuela e e lui fa questo lavoro se riesco a mostrarvelo eccolo qua lui fa questo lavoro lui eh trasporta le persone da una parte all'altra del del di questo fiume che è il fiume che che divide in due eh cioè che che fa da confine naturale a a tra eh Colombia e Venezuela ehm questo era un momento in cui la pandemia non era ancora esplosa e quindi lui come dire lavorava eh serenamente tra virgolette in questa in questa dimensione e dopo di che siamo rimasti in contatto perché quando esplosa la pandemia è stato chiuso il confine eh in modo militare le cose sono cambiate lui ha cominciato a mandarci eh dei video che sono questi qua ci mostrava quanto eh fosse diventato pericoloso fare quel tipo di di attività eh quanto le le i cartelli anche in quel caso decidessero eh cosa era consentito fare e cosa no e lo facevano in modo eh terribilmente violento eh alcuni video che mi ha che mi ha mandato che naturalmente non posso mostrarvi mostrano dei corpi fatti a pezzi di persone che avevano violato la quarantena e e mi e mi raccontava eh quanto fosse eh drammaticamente complicato eh per loro sopravvivere questi sono profughi profughi venezuelani che cercano che cercano di eh di eh di eh di 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 superare il fiume però c'è un muro stavolta fatto da eh da dai militari che che gli impediscono di che gli impediscono di procedere o gli impediscono di 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 tornare indietro questo è l'esercito venezuelano che 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 li ferma e cerca di di bloccare questo questo flusso che pure è uno dei flussi più forti del pianeta. Negli ultimi anni sono passate circa 5 milioni di persone su questo confine, eppure è una delle più grandi crisi umanitarie del pianeta, ma l'abbiamo sentito e ne abbiamo parlato davvero molto poco. Io per chiudere vorrei soltanto aggiungere che il Sud America era definito da Ronald Reagan il portiere di casa degli Stati Uniti, e credo che da allora, agli anni 80, non è cambiato granché, è rimasto un posto ai margini del racconto giornalistico, è rimasto un posto dove è consentito, anche a causa della nostra incapacità di accendere gli flettori su quella parte di mondo, dove è consentito fare qualunque cosa, abbiamo visto dagli incendi della foresta amazzonica di quest'estate, e lo continuiamo a vedere con i massacri che si continuano a commettere in quella parte del pianeta, senza che se ne parli più di tanto, ormai diciamo, come dire, un massacro in Sud America vale come notizia molto meno di tante altre cose che forse avrebbero meno importanza da raccontare. Grazie, grazie Valerio per aver condiviso con noi anche parte del tuo materiale, che mostra anche come puoi partire dalle storie, passami il termine, piccole, umane, quotidiane, riesca poi a raccontare molto meglio la storia con la S maiuscola. Avevi iniziato parlando che quando sei andato in Sud America le prime volte, ti dicevano no, l'America siamo anche noi, quindi anche l'importanza molto spesso di capire le sensibilità, di usare i termini per raccontare sempre di più queste zone, quindi gli Stati Uniti che hanno un loro paese, sono statunitensi eccetera eccetera, sono discorsi che spesso poi si fatica a far tornare all'interno delle nostre redazioni una volta tornate anche da queste esperienze. Prendo spunto da quanto tu hai detto anche mostrandoci l'immagine di López Obrador, quindi del presidente messicano, hai detto si capisce dalle immagini in realtà le dinamiche che gestiscono chi comanda realmente all'interno di questi paesi. Quanto tu ci dici su parte del Sud America penso si possa trasporre anche in altri paesi, anche del Nord Africa, del Medio Oriente e approfitto di questa tua suggestione per passare a introdurre l'onorevole Yana Hem della Commissione Esteri, una rappresentante del Movimento 5 Stelle. Onorevole, buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera a tutti voi. Valerio ci spiegava essenzialmente che anche attraverso questo tipo di giornalismo, questo tipo di racconto che si capisce quali sono le dinamiche. Allora io le chiedo questo, anche per voi che fate politica estera, quanto è complesso raccontare le vostre decisioni o essenzialmente le politiche che vengono intraprese su paesi di cui non si sa, praticamente l'opinione pubblica sa pochissimo e non sa le dinamiche che si svolgono. Pensavo per esempio alla questione della missione in Afghanistan, nel rapporto di quest'anno, adesso vado un po' a memoria, saranno una decina le notizie sull'Afghanistan. Io mi chiedo allora un italiano quando sente parlare di una missione internazionale, anche italiana, all'interno di questo paese, che cosa può capire, perché c'è bisogno di questa missione o meno, che tipo di dibattito. Cioè quanto per voi è anche in generale, per chi fa politica estera, c'è bisogno che l'opinione pubblica sia informata su queste parti del mondo? Grazie mille a zero per questa domanda, ringrazio innanzitutto per l'invito e ringrazio tutti anche per questa presentazione, specialmente ovviamente a Paola Barretta e a Giuseppe Milazzo, che hanno curato un ottimo lavoro, un testo che almeno per me personalmente è molto utile e che credo abbia anche una profonda importanza di comprendere come funziona questo mondo ovviamente, qual è il mondo che è al di fuori dei nostri confini nazionali e quello che è un po' anche raccontare delle storie più conosciute, ma anche meno conosciute, ma non per questo meno importanti. La domanda ovviamente è molto pertinente. Come commissione di affari esteri, brevemente mi presento, io sono Yana Em, faccio parte della commissione di affari esteri qui in Parlamento alla Camera dei Deputati e mi occupo principalmente per competenza, per conoscenza, ma anche per personale passione, specialmente nel mondo arabo, della zona mena, della questione migratoria, diritti umani, tutte tematiche che sono estremamente importanti, ma che allo stesso tempo hanno anche paradossalmente spesso meno visibilità. Il mondo degli esteri in generale è un mondo che è paradossalmente un po' più lontano, sia perché ovviamente le persone, la percezione pubblica molto spesso guarda più i confini, molto più locali. Parliamo della politica locale del comune, andiamo fino alle province, alla regione, alla nazione, al mondo internazionale. A volte tralasciando che sicuramente vi è una profonda connessione e anche cooperazione, che però spesso non viene ovviamente ricordata e menzionata. Faccio un esempio banale, proprio per far anche capire, quando parliamo per esempio di cooperazione in senso proprio commerciale anche, che molto spesso non ci rendiamo conto all'anno supermercato, che tanti prodotti sono stranieri, sono qui perché abbiamo una collaborazione con tutto il mondo esterno. Il gas e l'elettricità arrivano da mondi che sono lontani decine di migliaia di chilometri e quindi ovviamente siamo sempre interconnessi. Eppure spesso ce ne dimentichiamo. Quando iniziamo a parlare di questioni che riguardano specialmente i conflitti, questa cosa tra l'altro cala drasticamente. Io personalmente, come già detto, mi occupo molto del mondo arabo che stento a trovare ormai posti che non hanno più nessun conflitto in nessun modo. Forse la Giordania si salva in questo momento, ma anche lì ci sono stati detti molti. È una regione ovviamente molto, molto complessa, molto complicata, con scenari di conflitti e guerra non indifferenti. Anche lì un esempio banale, lo Yemen. Io personalmente sono presidente Italia-Yemen, me ne sto occupando con molta passione, con molto cuore. E per quanto è uno dei peggiori scenari a livello umanitario, con 24 milioni di persone che sono a stento sulla sole della fame e della povertà, non si riesce a parlarne. Io ho visto nel vostro reportage che c'erano, mi sa, quattro notizie in questo anno. Un dato bassissimo con un dato così incidente. E vedo anche che, e questo lo dico adesso proprio per una provocazione, che per fare effetto in questo mondo ci vogliono notizie veramente pesanti. Non bastano più i 5-6 morti, servono tanti morti, servono magari bambini, servono donne. Ed è anche difficile per noi quindi comunicare quello che facciamo, quello che portiamo avanti, le nostre battaglie che facciamo, proprio per far sì che vi possa essere un mondo con più pace, un mondo con più diritti. E questo è un primo punto. L'Afghanistan, quindi per tornare alla domanda, è una domanda molto pertinente. È un posto nel quale, come Italia, ci siamo storicamente da tantissimi anni. Abbiamo tuttora una missione militare lì, abbiamo la cooperazione internazionale che opera lì. Abbiamo avuto un impegno storico per decenni e tuttora si vede che l'informazione è molto poca. Si è visto che qualche attenzione ci fu ovviamente con il trattato di pace stilato tra America e i talebani, ma alla fin dei conti anche questo è durato, se ho visto, due giorni e poi è scemato velocemente. Eppure l'Afghanistan, permettetemelo di dire, è un paese fondamentale perché è un ponte che collega l'Occidente con l'Oriente, che fa comunque da sponda da un Oriente alla centrale, quindi fondamentale. Io personalmente sono una grande sostenitrice di informazione del mondo estero. Credo che sia una delle cose che più ci servono. Io personalmente quando ho iniziato, diciamo, a occuparmi di politica estera, una giovane studentessa, mi viene in mente i miei colleghi che oggi mi dicono, Iana, è importante che tu informi, ma quando scrivi, quando racconti di questo mondo estero, sembra un po' un tema come l'IMES, quindi ovviamente molto dettagliato. Invece io, proprio vedendo le reportage, proprio leggendo i giornalisti di inchiesta, giornalisti di guerra, giornalisti che riuscirono a portare la primaria informazione, mi sono proprio appassionata di questo mondo e mi sono anche resa conto di quanto è importante essere informati per comprendere al meglio. Un ultimo punto che credo sia anche molto importante, poi semmai rimango ovviamente aperto per altre domande, è anche la necessità di collaborazione. La politica fa tantissime cose, prova anche a comunicare, ma è ovviamente anche importante che vi sia una interconnessione tra quello che noi facciamo o quello che il mondo del giornalismo vuole comunicare con le loro fonti primarie, che sono molto spesso quelle più preziose, e quindi alla fine il punto di incontro potrebbe essere vincente proprio per far sì che vengono sia raccontate, che anche portate all'attenzione, per far sì che possano essere aumenti dei cambiamenti importanti. E credo anche che un punto molto importante sia quello che tutti coloro, e lì parlo anche del mondo italiano, la cooperazione internazionale è presente in tantissime parti del mondo, e fanno un lavoro importantissimo per il paese in cui sono e per l'Italia stessa vada comunicato molto di più e deve esserci anche un cambio di paradigma su quello che può essere un pensiero di mainstream, sia di politica estera che delle tematiche che la compongono, come per l'appunto la cooperazione internazionale. Grazie, grazie onorevole, per aver aggiunto altri due livelli al nostro, altri due diciamo temi al nostro dibattito. Uno è sempre, lo dico da giornalista, no? Molto spesso ci dicono, ma lo Yemen è troppo complicato da raccontare, semplificalo. Lo stesso succede sulla Libia. Purtroppo molto spesso la semplificazione appiattisce l'informazione e tende a darla alla fine come un'informazione errata. Molto spesso sottovalutiamo anche i nostri ascoltatori o chi ci guarda, chi ci legge, chi ci segue. Cioè in realtà poi c'è anche l'interesse a capire realmente come è una, che cosa sta succedendo in un certo scenario, come quello dell'Afghanistan, dove peraltro la cooperazione è anche molto attiva come settore. Quindi è davvero, sono settori che si sommano tra di loro. E l'altra questione che ha posto è quella anche di quello che succede fuori dall'Italia, no? Sulla BBC, sulla CNN, su France and Qatar, su Al Jazeera, eccetera, eccetera, eccetera. C'è tanta informazione di esseri. Si raccontano gli esseri anche in modo più approfondito. Si seguono le vicende degli esseri, non si abbandonano. Forse anche qui c'è una distinzione tra quello che è il settore delle news e quello che è il settore dell'approfondimento del reportage. Però comunque non voglio essere, insomma, sempre criticare il sistema italiano, ma penso che ci sia anche un nodo tutto italiano qui da affrontare. Io la ringrazio e grazie di essere stata con noi. Ci tengo a dare un commento anche di incoraggiamento a quello che aveva appena detto, perché è un punto molto importante sulla questione news in Italia. Io personalmente credo che, io sono metà tedesca, quindi ho sempre questo confronto, volente o nolente, con questo altro mondo. E per l'appunto è vero che io, io lo dico per esperienza personale, molto spesso vado proprio nella stampa estera per andare a cercare notizie primarie, proprio per poi raccontare. Credo invece che l'Italia, proprio per il lavoro che fa in politica estera, per la cooperazione, fa un lavoro molto importante e vale la pena essere raccontato e vale anche la pena essere letto. E non lo so, io ho un po', forse sono utopica, voglio essere comunque positiva. Penso che se l'Italia, questo ovviamente è un incipit per noi stessi, il mondo politico, ma anche il mondo del giornalismo, ci fosse un'apertura maggiore nel raccontare questi scenari, ci fosse più spazio, credo ci sarebbe anche più ascolto. Credo che vada a diretto contatto. Quindi credo sia molto importante far sì che lo spazio volente e non volente ci sia sempre di più, anche perché, e questo con questo veramente concludo, noi spesso pensiamo che le tematiche magari non ci colpiscono perché sono così lontani. Faccio proprio un esempio specifico. La questione sicurezza, che per l'Italia è così importante, ha proprio visto in queste, per l'Italia, per l'Europa, ha proprio visto in queste settimane in questi mesi, la questione è anche paradossalmente degli attentati, che molto spesso poi hanno origine in altri paesi che ovviamente sono caratterizzati da conflitti. La nostra presenza, la nostra informazione che facciamo, il nostro porre luce su alcuni conflitti, che di luce veramente non ne vedono tanta, può proprio far sì che vi sia una interazione positiva di risoluzione in quella parte e di nostra comunque sicurezza, di nostra attenzione comunque dall'altra. Quindi è fondamentale in questo senso. Grazie ancora, anche perché penso che ci sia un ulteriore passaggio, anche un passaggio generazionale, cioè quanto poi più diverse, più complete saranno le nostre anche redazioni. questo ci aiuterà probabilmente a raccontare meglio tutte le parti del mondo e tutte le parti del mondo dove ci sono interessi che riguardano direttamente il nostro paese. Grazie mille. Chiederei adesso di intervenire ad Anna Meli, del COSPE, quindi promotore di questo rapporto, motore di questa ricerca negli anni. Anna, fino adesso diciamo essenzialmente abbiamo fatto un'analisi alla quale sono emerse passami il termine diverse strutture del nostro sistema e del nostro racconto degli esteri e in generale delle periferie del mondo. Quindi ti chiederei di fare un passo avanti, cioè come possiamo correggerle queste strutture, come possiamo cercare di migliorare, quindi di fare dei piccoli passi in avanti, di includere queste periferie nei nostri racconti e che meccanismi, i propri strumenti possiamo utilizzare come giornalisti, come organizzazioni non governative, come cooperazione, cioè che sinergie si possono anche mettere in moto anche col mondo della politica. Sì, credo che appunto i nodi critici siano stati tutti ben evidenziati e devo dire quando come COSPE abbiamo pensato questo rapporto insieme all'osservatore di Pavia, nostra propria l'intenzione di avere uno strumento che annualmente riportasse all'attenzione questo tema proprio nelle redazioni e facendo il passo in avanti che diceva Azzurra sostanzialmente per noi appunto che operiamo in 25 paesi del mondo siamo partiti da un sentimento appunto di frustrazione che avete ben espresso tutti in questa limitatezza di notizie e anche in questa limitatezza di prospettive perché giustamente Valerio Cataraldi prima diceva si parte dalle storie e noi di storie ne incontriamo tante quando facciamo cooperazione nei paesi di storie molto interessanti e di potenziali notizie che a nostro avviso andrebbero davvero raccontate non è solo il racconto della bella storia no? Ma il racconto delle dinamiche di quei paesi delle dinamiche che ci raccontano che cosa significa cambiamenti climatici che cosa significa vivere la pandemia in alcune aree particolarmente difficili ma anche appunto cosa ci come la cooperazione ci insegna quali sono anche delle buone pratiche che viva Dio possiamo esportare perché la cooperazione non è solo appunto unidirezionale ma come insegna è bidirezionale no? Ci insegna anche molto nel rapporto con gli altri con gli altri paesi e con le altre culture ecco tutto questo deve recuperare una dimensione di racconto più quotidiano eh l'avete detto l'ha detto bene Azzurro all'inizio questa intermittenza non fa bene a al racconto quotidiano di quello che accade ed ha dei riflessi come diceva l'onorevole nella vita quotidiana di tutti noi in verità quello che accade appunto eh anche molto molti chilometri lontano da noi poi di fatto ha un riflesso nella nostra vita quotidiana ed è troppo ehm ed è troppo parziale accorgersi di questo quando il mondo arriva a casa nostra mh e quando le migrazioni ci ci mettono a confronto forzate o no con una realtà eh appunto diversa no? Allora questo racconto parziale deve essere assolutamente superato ed è da lì che noi mh siamo partiti appunto con l'esperienza di illuminare le periferie di questo rapporto che però cosa rappresenta ormai siamo alla terza edizione per noi rappresenta appunto un momento di confronto innanzitutto col mondo del giornalismo eh come giornalista anch'io appunto poi incontro tantissimi colleghi bravi colleghi alcuni appunto li abbiamo avuti collegati stasera ma ce ne sono davvero tanti che nelle redazioni fanno un lavoro straordinario Lucia Goracci diceva occupando degli spazi ecco la prima richiesta che io faccio è che oltre occupare gli spazi si allarghino gli spazi di eh di eh racconto degli esteri noi innanzitutto chiediamo un allargamento degli spazi di racconto degli esteri lo possiamo fare ad esempio nel canale delle old news appunto abbiamo citato altre esperienze di BBC World Franz Van Katr che ovviamente hanno dei canali dedicati però noi crediamo innanzitutto che il servizio pubblico possa avere degli spazi eh più dedicati tematici a parti del mondo che non siano appunto quelli eurocentrici e quelli dell'America del Nord eh il racconto quotidiano ad esempio della parte banalmente anche economica eh l'Africa business news di BBC World eh ti dà un po' l'idea di come il continente africano sia appunto un continente così variegato con anche delle spinte di sviluppo molto interessanti quindi allarghiamo innanzitutto degli spazi troviamo più spazio è questo che chiediamo alle redazioni tutte ehm al tempo stesso noi siamo eh fermamente convinti come ONG eh che vadano sostenuti eh i colleghi e le colleghe che fanno un lavoro straordinario e per questo noi saremo sempre eh a fianco del buon giornalismo di quel giornalismo appunto che eh si si pone sul terreno e cerca di raccontare queste queste storie le dinamiche politiche sociali e economiche di di vari paesi tant'è che appunto eh siamo a disposizione e la cooperazione lo è sempre di più eh di di andare insieme nei luoghi eh dove accadono diciamo le notizie e ovviamente con la professionalità di colleghi che hanno esperienza internazionale noi siamo sicuri che questo racconto ha interesse eh Valerio Cataldi ha fatto una serie straordinaria narcotica che ha avuto un ottimo successo eh siamo sicuri che quando è raccontato da bravi professionisti anche il mondo degli esteri della cooperazione ha un un interesse alto eh si diceva dell'interesse appunto vediamo che anche sui social ha una dimensione di interesse se noi pensiamo appunto all'America Latina di cui abbiamo parlato e pensiamo banalmente a quanti eh emigrati italiani ci sono in America Latina che si sommano magari ai latinoamericani che sono presenti in Italia allora già quella è una fetta di ascolti mi viene di dire piuttosto che di lettori potenzialmente molto interessati a quelle notizie lì quindi secondo me appunto come avete detto c'è un immaginario ancora della fruizione di questa informazione troppo limitato a diciamo un'utenza media in verità appunto come sappiamo l'utenza è molto e la fruizione dell'informazione è molto più allargata e variegata allora quello che che diciamo è uno allarghiamo gli spazi dedicati agli esteri anche in maniera creativa sempre più guardando ad altri continenti con i quali appunto come ci diceva l'onorevole ci sono grandissimi scambi e relazioni di politica internazionale due sosteniamo l'informazione la buona informazione che fanno tanti colleghi e ovviamente anche sosteniamo quella parte di freelance recentemente è stata formata un'associazione da parte di bravissimi ragazzi molto giovani colleghi e colleghe freelance che si occupano di esteri perché sempre di più come è stato detto le grandi come la RAI ha poi non ha più tanti corrispondenti e si affida tante testate si affidano ai freelance che appunto poi rischiano anche tante volte sulla loro pelle insomma l'idea di andare sul terreno ecco come organizzazione non governativa noi siamo a fianco anche di questi giornalisti questi giovani giornalisti hanno formato questo gruppo e si chiama questo collettivo si chiama FADA ecco francamente tutti coloro che da questo punto di vista ci aiutano ad aumentare lo sguardo e le prospettive su questo mondo credo che facciano bene all'informazione italiana e facciano bene appunto all'opinione pubblica di tutti noi e quindi veramente sosteniamo questa realtà e facilitiamo il lavoro di coloro che con tanta passione con tanta professionalità stanno facendo questa informazione sugli esteri vi ringrazio davvero grazie grazie Anna lo dico sinceramente vorrei portarti con me ogni mattina in redazione per vedere se così piano piano lavorando io credo molto in realtà nel lavoro sinergico quindi lo dico proprio con con ottimismo io penso che questo tipo di lavoro alla fine riesca ad aprire più spazi perché anche all'interno delle delle redazioni giornalistiche c'è una certa sensibilità quindi insomma bisognerebbe lavorare forse su diversi piani passami il termine della macchina giornalistica io adesso prendendo proprio lo spunto da quanto tu hai detto quindi allargare gli spazi agli esseri sostenere la buona informazione grazie anche per aver introdotto il tema dei freelance che portano un contributo enorme alle redazioni in modo quotidiano e anche da un punto di vista qualitativo davvero molto alto io su queste tue proposte vorrei sollecitare Vittorio di Trapani per chiedergli appunto quanto ha proposto Anna come possiamo poi realmente trasporlo all'interno delle nostre redazioni dove ci sono anche tanti giornalisti che hanno intenzione e interesse a raccontare queste periferie ma che poi faticano nei fatti a farlo Vittorio e non ti sentiamo perché forse sei muto eccolo il mio scusatemi no volevo stavo ringraziando per lo spunto e ovviamente ringrazio chi ha organizzato questo appuntamento che è il secondo per riflettere sul terzo rapporto che è stato organizzato e devo dire mi piace sottolineare così arrivo tra un attimo alla risposta alla domanda che mi hai fatto è molto interessante come sta proseguendo la discussione su questo rapporto perché nel primo appuntamento ci siamo dedicati in particolare al tema delle povertà ora invece con maggiore attenzione al tema specifico delle periferie in questo caso le periferie intese proprio come le periferie geografiche abbiamo detto più volte che questo rapporto utilizza il termine periferie per specificare che non è soltanto riferito a quelle geografiche ma in assoluto alle periferie anche economiche sociali e quindi si arriva alla povertà è la ricchezza di questo rapporto che il mio giudizio dà l'idea molto precisa di perché sosteniamo che sia uno strumento di lavoro delle redazioni e inizio ad arrivare a quello che mi chiedevi azzurra perché il modo per intervenire primo è quello della formazione serve uno scatto culturale che ci consenta di andare ad occuparci di questi temi in maniera diversa e questo è uno strumento lo abbiamo detto più volte e lo ribadiamo non è una pagella ma deve essere semplicemente uno strumento manuale che tutte le redazioni devono avere per capire la strada che si è fatta fino ad oggi e la strada che si può continuare a fare anche perché questo io tengo a dirlo spesso ne parliamo di ciò che non va però dobbiamo anche dire che ci sono invece tante cose che vanno molto bene perché il racconto c'è non è vero che manca del tutto ma in alcuni casi c'è basta vedere l'esempio di chi oggi è qui presente quindi Lucia Goracci lo sa molto bene ne è una protagonista Valerio Cataldi è un altro protagonista azzurra lo sa per il lavoro che svolge però l'assalto culturale che va fatto è esattamente questo quello di tornare di capire che bisogna tornare ad un racconto che sia frutto di una testimonianza diretta sul campo il tema dei freelance è un tema di straordinaria delicatezza ringrazio Anna per questo spunto perché le colleghe e colleghi freelance sono colleghi e colleghi preziosissimi che fanno un lavoro spesso di qualità altissima devo dire che purtroppo non vengono pagati spesso in maniera adeguata rispetto al lavoro che fanno però il loro lavoro invece è di altissima qualità perché di solito si tratta di colleghi fortemente formati su un territorio specifico e quindi è molto importante il loro lavoro però si arriva a questo perché purtroppo molte aziende editoriali hanno deciso di esternalizzare il rischio hanno deciso di non correre più un rischio in prima persona ma di portarlo all'esterno in qualche modo quindi allontanarlo da sé quando parlo di esternalizzazione del rischio parlo di due rischi in particolare da una parte quello economico perché io ovviamente per andare in un luogo ho delle spese o dei costi che non hanno un ritorno economico ma piuttosto producono un'utilità complessiva al servizio del pubblico e poi c'è un rischio legato anche alla copertura di alcune zone che sono rischiose per per loro natura perché magari sono zone di conflitti o comunque dove ci sono delle tensioni e quindi andare a coprire quel territorio porta con sé dei rischi e purtroppo alcune aziende per azzerare questo tipo di rischio cioè sia quello economico abbattendo i costi sia quello di rischio vero e proprio sul campo hanno deciso di esternalizzare io invece io credo che in particolare i grandi gruppi editoriali quindi prima di tutto la re servizio pubblico debba tornare ad essere sul campo arrivo a conclusione ci avete chiesto di essere rapidi e quindi concludo rapidamente specificando in particolare un elemento guardate che allontanarsi dal luogo dove capitano le cose quindi essere meno testimoni aiuta un processo che è pericolosissimo perché aiuta un processo di categorizzazione quando il racconto dei fatti degli episodi procede per categorie è il modo per personalizzarlo per allontanarlo dalle persone per renderlo sempre di più ingabbiato in categorie e di conseguenza renderlo meno legato al racconto delle persone ci tengo a dirlo oggi perché oggi è la giornata internazionale dei diritti umani quando noi raccontiamo fenomeni internazionali andando per categorie perché siamo montani non stiamo più raccontando le persone quindi gli esseri umani e quindi stiamo difendendo meno bene i loro diritti e quindi in assoluto i diritti di tutti gli esseri umani ecco perché è un rischio per il tipo di racconto e anche per il ruolo che noi dobbiamo avere di tutela dei diritti attraverso un corretto racconto e a questo proposito spero di essere stato chiaro e di aver risposto alla tua domanda ma attorno all'impegno di inviare questo rapporto a tutte le direttrici a tutti i direttori affinché ne facciano utilizzo quotidiano nelle redazioni permettetemi ci tengo a farlo perché a proposito i diritti umani e di racconto e di persone oggi è una giornata che io spero che ci avvicini un po' di più ad una verità che è quella che aspettiamo tutti per ciò che è accaduto a Giulio Reggeni vista la chiusura delle indagini e quindi il fatto che forse siamo un po' meno lontani dalla verità e quindi credo che sia giusto almeno da parte mia chiedere a tutti un impegno per continuare a lavorare per ottenere finalmente verità e giustizia per un cittadino italiano che a quanto pare è stato torturato e ormai la verità sempre di più sta venendo fuori e con l'occasione ovviamente un abbraccio forte e particolare ai genitori che hanno insieme una straordinaria tenacia una straordinaria dignità e saranno i due elementi di forza che ci consentiranno io spero il prima possibile di avere finalmente verità per Giulio Reggeni e per i tanti dei quali purtroppo non conosciamo i nomi ma che hanno subito la stessa sorte ancora grazie per questa occasione di incontro e grazie grazie mille Vittorio hai toccato il tema della questione verità e giustizia per Giulio Reggeni è un tema che personalmente ho molto a cuore ma anche un tema dove si è vista l'importanza e il ruolo che può svolgere la stampa mi riferisco alla scorta mediatica che si è formata e anche anche alla capacità che ha avuto la stampa insieme alla società civile di tenere alta altissima l'attenzione sulla tragica vicenda che ha coinvolto Giulio quindi anche questo è il ruolo poi a sostegno del processo democratico e quindi in realtà al sostegno dei diritti umani come tu dicevi quando parlavi appunto di tenere alta la luce sui diritti umani pensavo anche all'importanza di avere poi giornalisti sul campo per avere come dire anche un rapporto di fiducia e di sincerità con chi ci ascolta con chi ci legge in generale con chi ci con chi ci vede cioè è importante poter raccontare cioè continuare a svolgere il ruolo del giornalista quindi di poter andare sul campo per raccogliere le storie e riportarle come tali spesso stare sempre di fronte a una scrivania rende questo questo lavoro particolarmente complesso soprattutto nell'epoca nell'epoca dei social ti ringrazio e ora farei intervenire Cleopas Adrienne Dioma del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo già Summit delle Diaspore Cleopas buonasera grazie di essere con noi ricordo che il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo riunisce al suo interno rappresentanti dei principali soggetti pubblici privati profit e non profit del sistema di cooperazione italiana abbiamo parlato prima delle diascore e abbiamo parlato anche prima del ruolo che le diascore possono giocare all'interno del nostro anche sistema di racconto possono anche diventare spesso lo sono già un anello per collegare questi mondi e ti lascio la parola con questa anche mia suggestione personale io mi occupo soprattutto di Medio Oriente zona del mondo nella quale mi sono anche formata professionalmente spesso fatico a trovare un ambito di anche confronto su queste tematiche all'interno delle varie redazioni e questo spesso invece lo trovo nei colleghi magari di seconda generazione che sono già all'interno di redazioni mi sembra quasi che il processo se arrivassimo in un futuro a redazioni anche più diverse più inclusive passami il termine si riuscirebbe ad avere un racconto anche più veritiero e più completo del mondo delle periferie ma in generale del mondo Cleopas grazie a Zura faccio una piccola identifica io sono parte del consiglio nazionale per la cooperazione di sviluppo e coordono il gruppo lavoro 4 migrazione di sviluppo invece il summit che ho coordinato è un progetto dell'agenzia se non mi tira l'eroe che mi lo cialo che vedo all'interno del zoom e chiaramente bisogna essere chiaro quando si presentiamo io sono molto contento di partecipare a questo questo incontro conosco e lo conosco da molto tempo quando si parlava della carta di Roma anche molto prima e quando c'era bisogno giustamente di cambiare la narrativa e l'approccio della presenza non soltanto dei migrani in Italia ma della relazione che si potrebbe essere tra l'Italia il mondo io sono arrivato nella cultura e nella comunicazione perché ero un po' stufo e stanco di sentire parlare sempre di Africa in un certo modo io sono andato in Burkina Faso un paese considerato povero ma io la povertà non l'ho mai conosciuta perché sono andato in una famiglia di funzionario dello Stato vita normale sono i progetti anzi se posso dire ho conosciuto più povertà e più casini più problemi in Europa in Italia che in Africa sono andato con l'anestino ed è chiaro che la mia situazione è cambiata totalmente nella realtà occidentale i progetti e la visione che avevo dell'Italia e del mondo era lontanissimo perché c'è anche purtroppo una cattiva comunicazione a volte nel mondo occidentale nelle parti nostre per tornare per tornare al discorso della comunicazione mi ricordo che 15 anni fa c'era un bellissimo progetto del giornale internazionale che aveva come pagina italiana la rubrica italiana la quale io ho scritto tantissimo per tipo 4 anni dove si sentiva la voce di tantissimi scrittori giornalisti attivisti nuovi italiani in Italia era una delle rubriche più letti dagli italiani io mi ricordo che ero stato invitato per molto tempo in diverse conferenze ho girato tutta l'Italia a parlare di immigrazione cultura Africa e la mia vita italiana perché c'era un interesse purtroppo questo progetto poi si è concluso abbiamo perso un patrimonio un capitale che poteva servire giustamente a transmettere in qualche modo quella parte di comunicazione che serviva per cambiare la narrativa io vengo dall'Africa si parla molto di immigrazione in Italia arrivano gente da Lampedusa si dice che quelli che arrivano molto qui vengono dall'Africa occidentale a zona Sahela abbiamo avuto elezione in Burkina in Costa d'Avorio in Guinea non si è parlato in Italia di questa situazione e come possiamo affrontare la relazione con questi paesi se non sappiamo perché no? l'elezione in Costa d'Avorio in Guinea sono andati anche abbastanza non direi male ma difficili sono stati tanti morti e sappiamo che Guinea è un paese che fornisce molti migranti in Italia se non ti informi su questa realtà come puoi far affrontare la realtà di quei migranti che vivono qua come puoi spiegare il perché il guineano lascia il suo paese scappa e traversa il deserto arriva in Italia e lo trovi di fronte a casa tua quindi chiaramente lo vedi e deve essere una interrogazione che devi portare giustamente anche piano poi arrivare un po' su e a cercare di capire in che modo puoi interagire con lui interazione e comunicazione ed è molto importante che si inizia in qualche modo a valorizzare all'interno realtà italiana le competenze non soltanto delle seconde generazioni io voglio che si ricorda perché a volte si dimentica che per arrivare alla seconda generazione sono state le prime generazioni le prime generazioni hanno fatto un sacco hanno fatto hanno scritto tantissimo abbiamo Pap Kuma che è stato uno dei primi scrittori Sala Mednani che è un giornalista sono quelle persone che hanno portato piano piano abbiamo avuto scrittori come Giaba Scego e Tarla Ambri c'è stato un movimento culturale politico sociale persone come Tuadi che hanno portato un messaggio di cambiamento a livello comunicazione che deve essere un po' capitalizzato e forse un po' consegnato è quello che sta facendo adesso le nuove generazioni perché se no si crea una rottura da quello che si fa adesso e non va bene nel senso che non c'è una continuità e quello che si fa prima ha servito giustamente a giovi di avere qualche spazio per andare a fare quella comunicazione quindi bisogna investire tantissimo per ricordare quella che era prima la storia della comunicazione e la carta di Roma e quelli che hanno lavorato con cosp possono raccontare tantissimi giornalisti della prima generazione che sono ancora qui che conoscete molto bene che possono essere a disposizione per capire in che modo almeno fare un quadro generale della situazione che è stata prima quello che vediamo adesso e avere una prospettiva insieme ai giovani della generazione quindi c'è bisogno veramente di ritornare in qualche modo a confrontarsi con la persona che trovi di fronte a casa tua che incontri nel tuo quotidiano quando prendi la metro l'autobus quando vai al supermercato che ti guarda e chiaramente si chiama Mustafa a volte Shobin e tutto il resto e che può darti qualche indicazione spiegare dove viene cosa ha fatto il resto la dinamica culturale è molto importante noi abbiamo lavorato all'interno così del Summit di Aspore a la creazione di un piccolo gruppo di giornalisti della diaspora e della nuova generazione perché siamo reso conto insieme all'agenzia di Zampadire perché siamo reso conto che c'è un potenziale di questa realtà che hanno dei blog hanno fanno tantissime attività sui social tutto il resto cercare di mettere sistema questo patrimonio può essere utile principalmente per affrontare delle situazioni che possono servire in Italia a confrontarsi con se stesso perché lo siamo qui in Italia e quindi le rapporti si confrontano con se stesso e confrontarsi con il mondo a livello internazionale per l'unico modo per affrontare la contazione la relazione internazionale e quello iniziare da quello che c'è e quello che c'è con noi qui in Italia e con noi quindi siamo percorso che può servire principalmente a creare una sinergia un po' più adeguata nella contazione e nella relazione con il mondo grazie grazie mille parlo personalmente ma penso di raccogliere anche il pensiero di altri colleghi con i quali poi lavoro quotidianamente siete un forte potenziale anche per il modo in cui noi facciamo giornalista siete molto spesso i giornalisti della diaspora sono anche loro proprio un ponte di accesso alle informazioni uno strumento anche diciamo per lavorare in modo sinergico sul controllo delle fonti sul raggiungere le voci sul raggiungere le storie nella preparazione delle nostre trasferte cioè siete davvero una grossa ricchezza per il nostro per il nostro mondo giornalistico io spero che anche da eventi come questi da rapporti come questi si possano creare delle sinergie che possono portare realmente a migliorare il nostro sistema informativo doveva essere collegato con noi anche Beppe Giulietti della Federazione Nazionale della Stampa Italiana è stato preso dalla conferenza che menzionava anche prima Vittorio Drapani della famiglia Regeni e quindi si scusa ma non è connesso con noi io quindi lascerei la parola finale il compito di un po' tirare le somme di questo incontro ad Emilio Ciarlo dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo partendo da una suggestione la cooperazione italiana è una rete molto fitta forse non troppo conosciuta forse non troppo raccontata nella sua grande potenzialità sono delle antenne italiane in tantissime parti del mondo in tantissime periferie e in tante periferie delle periferie quindi anche magari in paesi raccontati ma dei quali non viene raccontata questa storia o questa crisi penso per esempio al Libano con cui abbiamo aperto con Lucia il Libano in realtà da anni è un paese dove ci sono tantissimi indicatori che una crisi un'esplosione magari non di questo genere più politica più sociale era alle porte ma che comunque non siamo riusciti a raccontare come doveva essere raccontare quindi Emilio ti passo la parola ti chiedo di tirare le somme ma anche con con questo invito cioè come anche la cooperazione può aiutare in un lavoro sinergico anche noi giornalisti a compiere questo cambio di passo e grazie grazie a Azzurra grazie a tutti naturalmente grazie al Cospe grazie a Vittorio Di Trapani e a tutti gli amici che hanno lavorato e che in questi anni insomma hanno prodotto questo rapporto che per noi è importante noi siamo una realtà con 20 sedi all'estero ma lavoriamo in oltre 60 paesi abbiamo un budget diciamo importante ma riprendo una frase abbastanza diciamo esplicita che diceva prima Valerio Castaldi degli esteri non frega niente a nessuno questa è la verità in Italia è così io l'ho scritto anche in un mio pezzo su Affington Post questo noi ci dobbiamo chiedere perché ma dobbiamo chiedercelo non tanto come addetti alla comunicazione noi ce lo dobbiamo chiedere come italiani perché alla fine diceva sempre Castaldi gli italiani dimostrano di essere molto provinciali cosa che è molto vera ed è bello bello è curioso notare che da una parte sono molto provinciali dall'altra parte si chiedono di essere molto fighi molto fighi molto conosciuti nel mondo perché noi ci riempiamo la bocca di una cosa che ahimè ve lo dico perché il giro non è vera nel senso che l'Italia più fa così più si disinteressa lo diceva forse anche Vittorio più si disinteressa più l'ignoranza sul mondo contribuisce a definire un'Italia sempre più piccola sempre più mediocre e sempre più lontana noi ci illudiamo di avere una rilevanza perché pensiamo alla Ferrari ai calciatori a alcuni artisti noi pensiamo agli italiani che sono in giro nel mondo e che portano sulle loro gambe diciamo la nostra tradizione ma l'Italia e credo che l'onorevole M lo sappia bene l'Italia non c'è spesso non c'è non c'è e non c'è addirittura nei nostri racconti nei nostri racconti l'avete detto fino ad oggi ma la cosa è legata per cui noi non siamo fuori non riusciamo a proiettarci fuori perché noi stessi non sappiamo e questa poi è la domanda a cui noi dobbiamo sempre rispondere ma arriverò alla fine noi non sappiamo perché stiamo negli altri paesi perché noi non utilizziamo più la parola aiutare perché investiamo negli altri paesi perché abbiamo la nostra sede perché abbiamo la nostra ambasciata perché partecipiamo qualcuno diceva prima al diamo il nostro contributo alle grandi sfide globali purtroppo se noi questo racconto non lo facciamo ci autodefiniamo al nostro interno come chiusi in una nostra antica città medievale magari bellissima ma sempre più isolata questo è l'immagine che non l'immagine la preoccupazione che da cittadini italiani al di là della cooperazione ho sul modo in cui l'Italia si approccia alle relazioni internazionali in generale prima ancora che alla cooperazione sono informazioni che ci servono anche perché diceva Milazzo così tiro via diciamo scelgo alcuni faccio il cherry picking come dicono gli inglesi scelgo alcune frasi che mi hanno colpito perché la domanda è viva non è vero che queste questioni non interessano non è assolutamente vero innanzitutto non è vero che non interessano i giovani lo dico da da padre anche i giovani sono molto interessati ma sono sempre stati interessati nella storia ciò che avviene nel mondo forse più a quello che ha l'ultima crisi che c'è diciamo pazzo quindi non è vero che non c'è un interesse in verità certo bisogna raccontarlo bisogna raccontarlo bene ma la domanda lo diceva giustamente appunto Milazzo è una domanda viva quindi cerchiamo di aiutare questa questa richiesta e questa necessità come passiamo a altri aspetti che sono stati toccati intanto lo diceva credo Lucia Corazzi il racconto partiamo partiamo diciamo della pandemia il racconto della pandemia è stato super eurocentrico ora naturalmente questo in parte è inevitabile però a me quello che ha colpito ne abbiamo parlato quando abbiamo presentato il rapporto a Torbella Monica è che è stato talmente eurocentrico non è solo la questione della Sud America su cui poi veniamo ma l'Africa c'è Cleo che è stato bravo oggi ha rispettato diciamo la consegna di ricordare che il summit è un progetto dell'agenzia l'Africa l'Africa si è comportata bene durante la pandemia non ne abbiamo parlato quindi quando si comporta male non ne parliamo comunque andatevi a vedere i rapporti degli anni precedenti comunque l'Africa non c'è in genere se c'è è sempre un fatto negativo e ci sta la guerra e ci sta l'elezione che è andata male ci sta la pandemia ci sono le locuste e così via per una volta si è comportata bene non ha avuto la situazione tragica che abbiamo avuto in Europa non ne abbiamo parlato lo stesso non abbiamo spiegato perché anzi abbiamo detto che si è comportata bene in verità perché non si hanno le informazioni perché non sono capaci di raccogliere cosa che non è neanche vera cioè è vera ma non è questo il motivo per cui in Africa la pandemia ha avuto meno effetto quindi anche che quando c'è una notizia positiva sulle periferie noi non vogliamo sentirla non vogliamo dirla non vogliamo imparare nulla perché naturalmente nel nostro eurocentrismo sappiamo già tutto e non abbiamo bisogno di ascoltare nulla anzi in genere noi aiutiamo cosa che ormai è spero cioè spero dovrebbe essere passata nella nostra cultura ma non è ancora così noi investiamo cooperiamo non è che aiutiamo sono partner e non sono beneficiari lo diciamo sempre lo devo dire sempre forse come Cleo ha imparato a dire questa cosa del progetto un giorno gli italiani e anche tante OSC impareranno a dire questo quindi intanto c'è un tema di narrazione che riguarda non solo il fatto di andare oltre l'eurocentrismo ma il cambio di paradigma lo diceva l'onorevole M ecco questo è molto importante questa è una cosa su cui noi stiamo cercando così arrivo a due proposte molto rapide che forse segnano speriamo una prospettiva intanto il cambio di paradigma vale a dire noi dobbiamo rispondere lo dicevo all'inizio al tema perché noi investiamo soldi nel sistema alimentare tunisino nell'emergenza Libano nel centro storico di Cuba nel sistema sanitario suddanese invece di utilizzarli tutti in Italia dove non c'abbiamo le mascherine non c'abbiamo questo non c'abbiamo quello non c'abbiamo quell'altro questo la risposta a questa domanda non può essere perché non va bene non è sufficiente la solidarietà la pietà non c'è solo questa cifra e non è questa la cifra con cui noi poi facciamo capire ai nostri cittadini perché l'Italia è nel mondo e perché risponde alle sfide globali alle emergenze globali mi è piaciuto come l'avete chiamare noi dobbiamo raccontare questo questo percorso di nuova narrazione nuovo paradigma è un percorso che io come agenzia vorrei iniziare a fare quindi coinvolgerò ascolterò Anna Paola Giuseppe e tutti quelli che hanno lavorato su questo che hanno fatto quella bella analisi anche del lessico che viene utilizzato che è molto importante noi dobbiamo riuscire a rispondere a quella domanda in modo diverso non come è stato fatto fino ad oggi e non certo con quelle pubblicità che io personalmente ritengo ignobili ignobili che fanno alcune OSC puntate sulla pietà puntate sulla mosca che gira attorno al bambino africano che invece aiutano a continuare una narrazione sbagliata quindi dobbiamo correstruirne una differente noi cercheremo di farlo cercheremo di avere un percorso che magari condurrà anche a coopera che è la l'annuale si fa ogni tre anni la grande conferenza sulla cooperazione nazionale che si farà credo nella seconda metà del 2021 e quindi con un percorso cercheremo tutti insieme con antropologi filosofi poeti musicisti che io preferisco ai giornalisti visto che qua ce ne stanno molti nel senso che i giornalisti vengono dopo prima andiamo a scavare un po' più nel profondo scherzo naturalmente perché sono degli amici quelli che sono presenti cercheremo di intanto cambiare il paradigma seconda cosa è quello che volete concludo è quello che volete già detto in più persone la mia idea la nostra idea è quella di cercare di favorire una specie di scuola di giornalismo globale e l'obiettivo è quello di mettere mettere nelle redazioni o aprire le redazioni dei giornali italiani degli giornali a contributi di persone quindi che facciano parte della redazione in qualche modo che facciano delle riunioni di redazione di persone che vengono dal Sud Africa dal Sud America dal insomma dal mondo che vengono dal mondo quindi insegnare da una parte insegnare cercare di educare a questa educazione alla cittadinanza globale educare le nostre redazioni i nostri giornalisti ma nel contempo nel concreto nel campo mettere persone dentro le redazioni per far sì che siano lievito nel co-working diciamo così certo questo spero che aiuterà e veramente concludo a evitare che la RAI chiuda invece di aprire le redazioni in paesi e in continenti come è successo e ce lo raccontava se non ricordo se sia la Goracci o Vittorio in continenti come il Sud America in cui io invece spero e vedremo se anche riusciremo a fare un'azione per invitare il nostro servizio pubblico ad aprire a riaprire a mandare i corrispondenti e a tornare a raccontare la complessità del mondo con quei nuovi paradigmi che dicevamo grazie 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 mille anche per questa diciamo conclusione programmatica che vuole un po' tenere dentro tutto penso che anche noi come giornalisti abbiamo spesso molto bisogno di confrontarci con un mondo diverso dal nostro quindi quello della cultura dell'antropologia cioè proprio un bisogno nostro di ricevere informazioni non dalle nostre tradizionali fonti quindi è una proposta molto bella come è molto bella peraltro era quello a cui mi riferivo io credo molto che in un futuro la diversità in generale come nel mondo della politica e anche in quella del giornalismo possa essere davvero un fattore che dà ricchezza al nostro mondo giornalistico soprattutto quando parliamo di esteri quindi dove diverse conoscenze anche proprio culturali di un mondo molto spesso il rischio di parlare di una regione del mondo gli esteri sono enormi senza avere maturato negli anni una grande conoscenza di quella che è la cultura e la società di questo mondo e quindi il racconto anche della politica resta un po' della politica delle crisi in generale resta un po' asettico io sono diciamo una incurabile ottimista e questo forse anche dalla mia giovane età insomma molte volte rende più difficile fare questo lavoro ma penso come molti di voi hanno detto questa sera che in realtà c'è una grande fame di esteri in generale soprattutto nei giovani e magari di esseri fatti diversamente questo è vero di un certo racconto di esseri più ricco più dettagliato più immersivo più di raccontare che cosa sono queste società e non solo la classe politica perché poi molto spesso il rischio è che noi raccontiamo la politica ma non raccontiamo la società civile penso a tutti i paesi dove c'è un regime spesso raccontiamo quello che fa il regime ma non raccontiamo nella realtà la lotta che fanno le società le società civili oggi ovviamente il paese è come in mente l'Egitto ma potrei replicare questo esempio su Arabia Saudita e su tantissimi altri paesi peraltro ricordo che proprio la cooperazione cura una rivista oltre mare che ha proprio anche questo obiettivo di raccontare e di adottare questa mi sembra un po' un progetto pilota di adottare questa ottica questo anche cambio di prospettiva e che penso che e qui chiudo questo rapporto possa anche diventare in ottica storica diciamo un metro per misurare come progredisce questo racconto mediatico cioè quali sono i progressi che facciamo tutti insieme tenendo insieme queste sinergie questo è stato un anno particolarmente diverso probabilmente lo è per tutti i settori penso che però vedere già che cosa succederà al prossimo anno vedere che cosa succederanno negli anni successivi perché certamente il racconto della pandemia ha anche appiattito la varietà del racconto giornalistico ma secondo me ci ha portato a riflettere su una questione che ormai quello che è locale è globale e quello che è globale è locale e in questo probabilmente anche il racconto giornalistico può crescere sinergicamente guardando le diverse le diverse parti del mondo cercando anche di raccontare quello che avviene io qui chiuderei ringrazio ringrazio tutti i partecipanti ringrazio tutte le associazioni che hanno reso possibile questo questo rapporto invito chi ci sta seguendo anche su Facebook probabilmente incuriosito anche ad andare a leggere il rapporto illuminare le periferie 2020 che si trova su internet sia sul costo che sul sito dell'agenzia che poi comprende in realtà non soltanto la parte degli esseri ma anche altre parti come per esempio anche il racconto delle periferie in Italia quindi anche come le periferie in Italia non vengono raccontate io con questo chiudo vi ringrazio e vi do già appuntamento immagino al prossimo rapporto grazie mille grazie mille grazie mille